Questa mattina è stato un inizio di giornata abbastanza particolare. Come Presidente del Comitato d'Azione Popolare si è recato nella stazione di Piazza Carmi dei Carabinieri di Teramo per depositare una denuncia a querela. Sì, sono stato fortunato perché ho i Carabinieri di fronte allo studio e sono stati particolarmente solerti nel recibire la denuncia, non più di 5 minuti. Ci vuol dire il contenuto della denuncia e verso chi la sporta? La denuncia è contro la giunta regionale che nel gennaio ha fatto una delibera in cui autorizza il laboratorio di fisica nucleare ad autorizzare sostanze tossiche nelle quantità necessarie per gli esperimenti, in contrasto con il testo unico dell'ambiente. Quali reati le avrebbe ravvisato? Sempre da valutare l'articolo 110, il 323 e il 483 del codice di procedura penale. Vediamo dopo i Carabinieri e le indagini della Procura. Vediamo loro perché io non sono un esperto in materia, però una delibera di giunta regionale che va contro una legge dello Stato, secondo il mio comitato, non sembra opportuna. Il suo comitato continua con la richiesta di chiusura totale dei laboratori, la bonifica ovviamente dei materiali pericolosi stoccati. Allora, la bonifica sarà durissima. La chiusura, per noi tecnicamente il laboratorio è chiuso. Noi diciamo che il laboratorio è tecnicamente chiuso. Non può essere aperto un laboratorio in cui vi sono delle sostanze che vanno contro la legge. Non è possibile autorizzarlo, noi non ci fermiamo per davvero. Abbiamo dato tempo, lei lo sa, abbiamo dato molto, molto tempo. Non volevo arrivare a questo. A questo punto, se la magistratura non ci tutela, a quel punto noi diremo che non possiamo fare più niente. Se c'è una legge dello Stato e questa legge non viene applicata, è finita. Adesso si vuole modificare il testo unico dell'ambiente. Grazie. 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 Grazie.